Continua ad essere ottimista il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che non vuole procedere con un atto di forza per la composizione del cosiddetto Brucchi Ter. L'obiettivo del primo cittadino infatti, nonostante tutto, è mettere a punto una proposta condivisa con tutta la maggioranza per andare avanti, rilanciare l'alleanza e risolvere la crisi che ha azzerato la Giunta. Io sono soddisfatto di come è andato il tavolo politico, si è discusso, c'è stato anche qualche scambio di vedute ma questo è importante ed è normale che ci sia ed è anche costruttivo quando ha come obiettivo il pubblico interesse e questo è quello che è accaduto ieri sera. Ieri le liste, le due liste, Fratelli d'Italia e Centro di Teramo mi hanno chiesto qualche giorno per poter meglio vedere il documento e per poter fare le proprie integrazioni, ci rivediamo lunedì sera alle 20 tutti quanti insieme per definire questa piattaforma programmatica e poi ripartire. Quindi nonostante tutto quello che è accaduto si aspettava una scelta personale, da parte sua lei vuole comunque seguire la strada di una scelta condivisa? Io credo che la condivisione debba far parte della politica, sempre in questo momento, si può condividere un po' di più, si può condividere un po' di meno, preferisco condividere, poi credo che ci sarà un momento in cui il Maurizio Brucchi dovrà fare le sue scelte e le farà in maniera molto serena. Se da un lato persiste il pensiero positivo del sindaco Brucchi nel rendicontare un incontro costruttivo che si riaggiornerà a lunedì, dall'altro c'è chi pensa che il lavoro svolto sinora nei tavoli precedenti non abbia portato a nulla. Noi siamo stati invitati per la prima volta a questo tavolo e sinceramente pensavo che stavano più avanti nei tavoli precedenti. Non mi sembra che ci sia ancora chiarezza, anzi ho visto anche molta fibrillazione tra i gruppi. Noi consegneremo quanto prima il nostro documento programmatico che avrà delle indicazioni e secondo come saranno accolte le nostre indicazioni ci muoveremo di conseguenza. C'era questa indicazione programmatica del sindaco su cui gli altri gruppi stavano dando delle indicazioni chi già le aveva date e di conseguenza è stato chiesto anche a noi come volevamo muoverci e noi abbiamo detto che faremo questo documento e che consegneremo al sindaco.